C'è una partita con tanti alti e bassi, molto equilibrata come ci si aspettava ma partendo dalla fine, un gran bel segnale, una partita che a un certo punto sembrava compromessa il grande carattere vincere così è bello Ah sì, l'avevo detto alle ragazze prima di iniziare la partita che era una partita che sicuramente sarebbe stata tesa, nervosa e quindi si poteva risolvere solamente così con chi aveva più carattere, chi aveva più personalità nei momenti importanti le ragazze sono state brave a non mollare alla fine anche quando erano sotto di quei due punti che sembravano una montagna però direi che è stata una buona partita comunque perché è vero che ci sono stati un po' di alti e bassi però i due set che abbiamo giocato bene noi sono stati comunque due buoni set per la nostra squadra negli altri due set merito a Chieri che comunque ha spinto forte un po' in tutti i fondamentali e loro sono una squadra che rispetto a noi sicuramente hanno un potenziale d'attacco maggiore e quindi è difficile stargli dietro quando vanno a mille con tutti gli attaccanti è venuto fuori un derby come sempre equilibrato, teso, bello, emozionante quindi oggi siamo noi che sorridiamo, siamo contenti, l'andata era successo al contrario noi quello che ci tenevamo era cancellare il brutto passo falso che abbiamo fatto con Busto che era stato un episodio sicuramente anomalo per questa squadra, per come si era comportata tutto l'anno e penso che sia con la prestazione di Conegliano che quella di stasera abbiamo dimostrato che siamo tornati quelle che eravamo nella parte precedente alla partita di Busto e adesso la classifica la vedremo alla fine, ogni partita in questo momento del campionato ci sono risultati stranissimi perché ogni partita ha in palio tanto sia per chi lotta per salvarsi sia per chi cerca di avere un piazzamento importante questa è stata una bella partita, proprio un derby vero, siamo arrivati proprio alla fine e quindi questo è il bello dello sport, siamo felici perché comunque penso che nessuno ci credeva più però è da qua che si vede il nostro carattere, che non molliamo mai, ci crediamo fino alla fine quindi grandi noi perché abbiamo conquistato una gran bella partita, un gran bel derby che ci serve per il morale dopo comunque le ultime sconfitte e ci serve per affrontare appunto la prossima settimana che giocheremo due partite belle toste a Roma e a Monza, quindi che dire, brave noi è sempre così, sempre con grinta perché appunto stasera non abbiamo espresso secondo me il nostro miglior gioco non abbiamo fatto la nostra miglior partita a tratti sì, a tratti no però è bello sempre stare lì concentrati con la testa e quindi questo ha fatto la differenza secondo me Quanto è bello vincere così una partita che a un certo punto sembrava compromessa al tiebreak? Quanto sei contenta? Sì, è molto bello perché abbiamo fatto una grande partita penso che Chieri è una bellissima squadra è molto difficile di vincere contro loro e penso che insieme e con la motivazione abbiamo fatto una grande partita